buongiorno a tutti oggi siamo a lugano per mostrare questo due e mezzo locali siamo al primo piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento subito a destra abbiamo questi due armadi a muro già installati molto ampi proseguiamo la nostra visita subito a destra il bagno composto di idee pc specchiera lavabo e un'ampia doccia frontalmente all'ingresso troviamo la stanza come potete notare e sempre dall'ingresso sulla sinistra abbiamo tutta la zona giorno e la cucina una cucina composta di frigorifero congelatore lavabo piano cottura a induzione lavastoviglie e forno dato molto importante l'appartamento è appena stato ristrutturato completamente quindi se volete avere maggiori informazioni legate a questo appartamento chiamateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto